Quattro, cinque, stai, quinto, tre... Cambiamo di parecchio Con il dolore non è vero? Questo mi ricordava Lo poco frontronico C'è un paio in Aragone con palos Questo è come fare il martillo Lo veis con il puño del cuchillo E ora, io posso fare questo Tambien potrei farlo No? Però qui A lo mejor un poco mas incómodo A lo mejor ensampare qui Con questa parte di qui Seria comodare con questo del cuchillo Lo veis? Lo meno che ho utilizzato è il puño Questo Hago Questo E faccio E faccio E faccio E faccio La cara con los puños Porque me voy a cargar la mano Me voy a romper la mano Eso es válido para el boxeo El boxeo originalmente era aquí Y los golpes iban ahí El boxeo empezó a ser así En el momento en que se empezaron a cubrir las manos Pero tu intenta boxear en la calle Y aquí todos los viernes y sábados Domingos me llega gente con la mano rota Ok Ok